Il fumo e le fiamme, poi l'allarme, giusto in tempo per evitare che l'incendio si propagasse a tutto il garage, ma troppo tardi per salvare due autovetture diventate carcasse annerite. La paura all'alba nel piano interrato del parco a multilivello di piazza Medaglie d'Oro a Vittorio Veneto. Una smart e una panda divorate dalle fiamme, mentre fuoco e il fumo hanno danneggiato pure le opere realizzate di recente da alcuni writers del progetto Art in Park. Qualche residente ha visto il fumo, ha chiamato i vigili del fuoco, sul posto si sono portate le squadre di Vittorio Veneto, che in pochi minuti hanno spento le fiamme, evitando che si propagassero ulteriormente, e una pattuglia dei carabinieri. Le fiamme sono scatolite dalla smart, intaccando poi la panda vicina. Le analisi degli investigatori sono in corso e l'ipotesi del dolo non è esclusa, gettando un'ombra inquietante su un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze anche peggiori.